No! Allora, in realtà questa mappa è perfetta per il video sui trick. Il problema è che, raga, a distanza di mesi, da quando ho iniziato a imparare un po' tutti i trick, io questa mappa non riesco ad impararli. Cioè, non ce la faccio proprio, raga. Cioè, è proprio più forte di me. Cioè, non ce la faccio proprio. Allora, riesco a fare il primo, ma c'è tipo questo. Ok, e va bene. Questo l'abbiamo più o meno masterato, ma è veramente facile. E poi, però, per il resto, raga, non ce la faccio proprio. Allora, molti di voi mi hanno consigliato di passare qui, a sinistra, in sta mappa, perché ti puoi evitare di fare un trick. Perché, esatto, da qui è più facile. Però, raga, mamma mia. Raga, sono andato parecchio veloce, però, effettivamente. Raga, però quello è stato bravissimo. Oddio! Raga, non ci credo! L'avete visto che ha fatto la mummia? Raga, non ci credo! Raga, non ci credo!